Il capitano ha dovuto metterci qualche top anche domenica, anche se proprio non ha potuto nulla sulle ingenuità che hanno portato a due dei tre gol del fanful al piace. Poco male, le amichevoli servono anche a fare esperienza, a patto che ha ammonito a fine gara Jacopo Silva. Queste partite, queste amichevoli servono per questo, quindi speriamo di imparare presto dagli errori e toglierceli quanto prima. Un compito, quello di Apo, fondamentale e pieno di sfumature. Deve trasmettere a una rosa composta interamente da nuovi giocatori i valori che la maglia bianco-rossa custodisce, ma anche orchestrare un reparto, quello difensivo, che per scelta della società sarà composto per quattro quinti dai giovani obbligatori in Serie D. Categoria che ormai appare inevitabile, anche se a metà agosto non c'è ancora la certezza. Sicuramente non avere un obiettivo chiaro in testa non è bello, non è facile lavorare in questa situazione, però si va avanti e aspettiamo. Ormai la situazione è questa e l'accettiamo. Il Piacenza, agli ordini di mister Massimo Maccarone e del suo staff, riprenderà domani la preparazione dopo due giorni di pausa. Sabato pomeriggio amichevole a crema contro la pergolettese dell'ex allenatore bianco-rosso Matteo Abate. Domenica probabilmente amichevole a San Rocco al Porto contro il Treviso. Grazie a tutti.